Oggi 15 aprile, non è un classico giro in moto perché stiamo andando a fare il corso Mangia Tornanti insieme a Safe Ride Experience ovvero quello che serve come base per migliorare la propria tecnica tra le curve si chiama Mangia Tornanti perché il tornante come ho fatto in un precedente video che vi lascio nelle i in alto a destra è una di quelle curve un po' più particolare che mette molte persone in crisi ma vi permette di entrare più in confidenza con la vostra moto e soprattutto di acquisire competenza nell'affrontare anche tutta una serie di curve tipiche dei passi che noi motociclisti adoriamo fare ma bando alle ciance, saliamo in sella e let's go! Va bene, allora, intanto grazie di essere qui, benvenuti primo corso, io sono Andrea e lui Davide, presentati Io sono Antonio, dottor Rai del Sivetum è entrato a far parte un po' della compagine dei collaboratori di Safe Ride e quindi sarà il nostro creator, montatore, videomaker io non so neanche come che collocazione, un amico ecco che è meglio è il primo corso che facciamo qui in Piemonte quest'anno e secondo noi non esiste il meteo sbagliato, esiste l'abbigliamento giusto sperimentate tanto, fate tanto perché portando a casa oggi l'errore riusciremo a farvi vedere qual è la cosa giusta e quindi a darvi poi la possibilità di continuare questo percorso anche a casa abbiamo finito la parte teorica e adesso ecco il buon Davide che mette i connetti per fare un esercizietto tempo di esercizi sul piazzale in versione AU sembra facile, ma non è facile esercizi sul piazzale finiti ci sono due gruppi oggi tra l'altro giriamo verso Arona quelle zone lì, la giornata ci assiste, fa solo un po' fresco ma tra Vercelli e Novara iniziano le curve durante la presentazione statica c'è stato spiegato come impostare la corretta traiettoria quindi cercando di raggiungere il punto di corda corretto per la sicurezza stradale perché come vi dico spesso guidare in pista è molto diverso rispetto a guidare per strada e di questo bisogna tenerne sempre conto è importante sì anche andarsi a divertire in pista ma è importante fare anche un corso di guida su strada che insegni come affrontare una guida preventiva ed eccoli qui i tornantoni i tanto temuti tornantoni quando Davide fa questo gesto comunque l'istruttore avanti significa che quello subito dietro di lui accosta nel senso rallenta e si fa superare in questo modo dagli specchietti l'istruttore può vedere come guida chi è dietro di lui in modo da poi in un secondo momento dargli tutti quei suggerimenti e tips per andare a correggere eventuali errori ok ok ma dove si tengono e come si fa ad iscriversi ad un corso Mangia Tornanti insieme a Safe Ride Experience complice il fatto che la GoPro abbia smesso di registrare l'audio sono costretto a fare questa parte direttamente al mio studio a circa un mese da quando ho fatto il corso tuttavia il ricordo è ancora ben fresco allora iniziamo subito dalle basi dove si tengono i corsi di Safe Ride Experience in descrizione vi ho lasciato il link con tutto il calendario dei corsi che per l'appunto si tengono in Lombardia in Piemonte in tre zone differenti quindi Borgo Manero, zona Lago d'Orta-Motterone Biella, bellissima e Monferrato tutte zone davvero ricche di curve e in Veneto nella zona di Verona e Montebelluna quanto costano i corsi? hanno costi leggermente variabili tra una zona e l'altra tuttavia si parla di circa 180 euro per quanto riguarda il pilota e di circa 220 euro nel caso partecipaste insieme al passeggero cosa che vi consiglio assolutamente di fare questo perché come spesso vi dico il passeggero non è un sacco di patate non è una zavorra il passeggero diventa un copilota quando si guida la moto e deve essere partecipe nella guida della moto in modo da guidare più sicuri e con maggiore divertimento come si svolge infine il corso? beh come avete visto c'è una parte di teoria all'inizio della giornata l'incontro è fissato all'incirca per le 9 del mattino parte di teoria che dura circa un'oretta e mezzo a cosa serve? a fissare determinati punti fondamentali e soprattutto a spiegare alcuni dei gesti che vengono fatti poi dagli istruttori ai partecipanti in tempo reale durante le fasi di guida questo per correggere in maniera istantanea alcuni piccoli errori come per esempio una postura sbagliata una posizione del piede sbagliata una traiettoria non corretta finita la parte di teoria si va nel piazzale a fare un piccolo esercizio sbloccante che serve proprio a mettere i partecipanti in condizioni di essere un po' più affine con le manovre a bassa velocità e con la propria moto dopodiché si guida e voi potreste legittimamente avere il dubbio che in questi corsi si guida poco vi smentisco immediatamente perché alla fine della giornata avevo percorso insieme a Safe Ride più di 160 km di sole curve in zone ovviamente anche molto belle a livello di panorama quindi ci si diverte e soprattutto non è che si guida e basta ci sono dei piccoli brief tra una sessione di guida e l'altra in modo da poter spiegare alcuni concetti sempre più avanzati per cui però è necessario guidare e rendersi conto di alcuni errori in modo da andare a migliorarli in tempo reale ovviamente durante la giornata ci si ferma anche a pranzare e subito dopo il pranzo viene riservata una piccola parte alla guida dinamica cosa si intende per guida dinamica? beh il fatto di spostare il proprio corpo per favorire l'entrata e la percorrenza di una curva questa sessione in particolare modo è davvero sbloccante dopodiché si continua a guidare si continua a guidare e a fare curve i partecipanti tra l'altro si alternano dietro all'istruttore in modo che ogni partecipante abbia l'opportunità di essere seguito in tempo reale dall'istruttore e infine si ritorna in modo da potersi salutare e in modo da poter consegnare gli attestati di partecipazione al corso Safe Ride la giornata è davvero emozionante e soprattutto è davvero sbloccante ti svolta la guida in moto da così a così ed è incredibile rendersi conto di come passare chilometri e chilometri sulla moto non sia comunque sufficiente a imparare davvero ad andare in moto ma lascio la parola ad alcuni dei partecipanti che hanno preso parte al corso Mangia Tornanti in modo che vi possiate rendere conto di come è stata l'esperienza aspettative altissime rispettate corso molto bello giornata interessantissima istruttori bravi pochi consigli super azzeccati tecnica nuova di guida che ha zerato anni di moto e mi ha dato una nuova prospettiva aspettative soddisfatte ero entusiasta di venire e confermo il mio entusiasmo sono tutti molto gentili mi hanno aspettato perché io sono la più lenta del gruppo e nonostante questo mi hanno aiutata e ho acquisito molte sicurezze che mi mancavano molto soddisfacente lo volevo già fare l'anno scorso ma non c'era posto l'ho fatto quest'anno mi sono fatto 220 km per venirlo a fare veramente un corso interessante anche la parte teorica che a volte si pensa che sia un po' noiosa mi sono trovato molto bene adesso bisogna mettere in pratica quello che loro ci hanno insegnato istruttori molto competenti e preparati bene Davide Andrea come è andato oggi? molto bene devo dire la giornata è stata interessante abbiamo avuto un po' di persone simpatiche che andavano bene il meteo è stato clementissimo clementissimo quindi più di così io non direi di più di più non potevi avere? no no io come me la sono cavata? va bene hai fatto il professionale direi bene grande professionale troppo gentile sento il rumore di GS oggi non c'era un GS non c'erano due GS e quanti ce ne erano? sette è una cosa incredibile però va bene lo stesso e poi tutto il resto Ducati GS abbiamo avuto Ducati oggi ah no però c'era una Suzuki c'era la BMW si si esattamente la carna va bene bene ci siamo divertiti abbiamo fatto tutto alla prossima iscrivetevi al canale anche a loro iscrivetevi al canale ve lo lascio qui nelle schede e alla prossima qui sopra qui sopra no qui sotto qui sotto il nostro qui sopra quello di Toto qui sopra e alla prossima dove? la prossima domani la prossima domani o se no piuttosto settimana prossima in Sardegna tenetemi caldi a Colina ciao ciao ciao